torno cucuadrilli ma mi dice che c***o no te la scacca di co***e stronzo 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 ma perché ma guardati qui guarda ma perché che è ma almeno le sbricioli meglio digerisci meglio no ma dai mangiali ma digerisci mangiali la digerisci e dai via sta buono ma questo è scemo ma sei scemo ma che gli ha tirato il martello? si ma dove sei tutto il senso per un biscotto e lei fa malaparci ma da me chi fa malaparci ah ah non vuoi dire qualcosa ma non si fa così si fa dopo tutte le passeggiate che ti fa fa ah e quella è la piavaia io ah mi fa malaparci battani che strada ma cosa l'ho fatto io a fumarti con lo stronzo qui ah io non ho fatto malaparci al pancino ma vai il culo no no oh guarda ci ho la cicatrice già guarda Vattene Posso partire liceo Stamattina si suda un pochino eh Non molla mai Un pochino tanto Una bella palletta qua I bei quattro fili Tutti qua E dopo vi faremo vedere che ci fanno Dai Ma roba tanti coglioni eh Una sega E dopo? Dopo che fai? Ah su che io le scemate Che fai dopo? Beh che c'ho da fare Eh 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 Scusi lei Si si di qua lei Oh no Ma tutti questi Rigatoni ritornati con doppio sugo sugorum Triplo parmigiano di parmigianato Al doppio sugo Che dieta è? Oh no E dopo? E dopo? E poi? E poi? Nooo Attenzione Arzuche Noi questi li chiamamo I boconotti Boconotti al pomodoro Qua arzugata E' nevicata Top Che hai fatto? Ce l'ho con quel testa di cazzo De chi? Del presidente dell'Inter Chi? Cianca 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 Sancazza Perché che ha fatto? Ma come perché? Ma da via Lucaco E' Lucaco che è il giocatore della tassi via? Lucaco che? De Fuligno Deve rimanere in Italia Perché Lucaco è di Fuligno E' Lucaco di Fuligno E' Lucaco di Fuligno Ma da due anni? Ma che cazzo c'è la capocca? Piazzapata Eh? Piazzapata Cianca 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 Da chi? Cianca Zappana Zappana Temer medaglie Perchè? E' come perchè? Perchè non va bene Si è arrivato anche il presidente Maladogno Voi che ne pensate di sta cosa? Anch'io sono un po' Deluso Anche perchè comunque Vince in campionato si smantellit la squadra Ce e boh C'è assurdo Dato via Conte Cianca Dato via Conte ha dato via Pippini Chi? Aspetta chi? Pippini ma con che cazzo gioca prima l'ha vinto il campionato ma l'è arriva ultimo ma ultimo non arriveremo ma mi ripeti chi ha dato via ha dato via Conto ha dato via Pipini a chi Pipino sì il breve e lì ora vi metto il link dell'ultimo video su Youtube che è la raccolta delle storie di sabato mi sembra o domenica e c'è anche lo scherzo telefonico al nonno quando gli faccio la voce andatela a vedere fate swipe è lì dormimo? ma dici che cazzo vuoi? ah ma manca quando non dorme mi dà pace? è la tangente la tangente la pie volentieri sì sì bel ciuffetto bello ciò tu metti lì fermete guarda quanto è contento quella tangente dai un bacetto ma il camadosca mi hai raspato di qui ti ho raspato perché adesso ho il ciuffo ingellato non ti posso fare no con la barba la barba non ce l'ho è una settimana che la fa è vero è una settimana che la fa guarda che mi ha già fatto ti 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 che dice che c***o che c***o che c***o fermati ma come che mi ha fatto mi sta stringendo le voci ma che mi ha fatto oh oh ecco ciao ciao mi raccomando mi raccomando sta bene sta bene io passo per Roma ti saluto il papa va bene anche se fonti quasi certe vai via mi hanno detto che ha lanciato un bestemmione grossissimo vai via è vero è brava ma aiuti scusi ma ma quanto è bello ragazzi è il più bello di Salerno mamma mia grandelino via andiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti